Ciao raga, sono Tommy e sono Luca, siamo i By My Side, siamo qua all'Interland milanese purtroppo non c'è il nostro bassista Fede che salutiamo, anche voi vi saluta raga stiamo facendo questo video per tenere le giornate sui nostri progetti futuri ovvero è domenica 20 sulla nostra pagina Facebook, sui nostri canali YouTube potrete trovare il nostro primo singolo, Try to find the worst linkatelo raga, condividetelo, mettete mi piace, fate quel cazzo che volete portate in giro questo pezzo, veramente, a noi piace un sacco, speriamo che piaccia anche a voi come seconda cosa, registreremo il video di questo pezzo non sappiamo ancora una data, ma ci stiamo mettendo d'accordo con chi poi ce lo registrerà e quindi siamo già a un buon punto dopodiché torneremo in studio a registrare il nostro secondo singolo dell'EP ovvero sarà un featuring con un nostro amico, nostro fratello è veramente bravo ragazzi, è un rapper giovane, c'è la nostra età raga spacca i culi veramente, è poco conosciuto e non merita di essere così poco conosciuto però veramente raga è strabravo, fidatevi fidatevi veramente e niente, vorremmo solo dire che anche torneremo il, a settembre, primi di settembre torneremo in studio a finire questo EP a cui stiamo lavorando oggi da un po' e niente, domenica 20, try to find the world, sulla nostra pagina facebook, canali di youtube, by my side bella raga, non ve la perdete bella